Perciotto ha sentito le dichiarazioni, la difesa barra attacco del sindaco con la giunta accanto? Un'altra conferenza basata sul nulla. L'attacco veramente non l'ho percepito, ho percepito una difesa vergognosa. Io mi aspettavo altre cose ieri dal sindaco. Io mi aspettavo che ieri il sindaco dicesse perché cosa lui in prima persona ha indagato. Forse avete dimenticato che ci furono degli articoli di stampa che lo comunicavano e lui non ha mai chiesto rettifica. Io mi aspettavo che lui ieri in conferenza stampa spiegasse questo, spiegasse come ha gestito l'affidamento dell'acqua, appalto di 16 milioni di euro, perché di affidamento possiamo parlare, perché bando europeo non ce n'è stato. E poi mi aspettavo che ci spiegasse come funziona il sistema della spartizione degli appalti, tipo uno a caso quello degli asili nido. Che sta succedendo esattamente sulla scena politica e amministrativa siracusana? Sta succedendo che la Princiotta vuole spiegare e spiegherà alla città cos'è il sistema e come funziona. Lo proverà. Quindi dobbiamo aspettarci ancora indagini, intercettazioni, spobinamenti? Che le indagini non sono concluse mi pare un fatto noto. Sull'aspetto strettamente politico, adesso è anche nuovamente bagare all'interno del PD, chiesta anche la testa di Pappalardo, il Consiglio Comunale non può fare il capogruppo. Pappalardo parla di telenovelas ancora oggi, definisce tutto questo una telenovelas. Io non gli auguro mai che i suoi figli possano vivere questa telenovelas, non gli auguro mai di trovare i delinquenti a casa, non gli auguro mai di vedere la sua macchina incendiata, il suo giardino e che resti pure a seguire la fine di questa telenovelas. Per quanto riguarda il partito, ho letto stamattina che, adesso non mi ricordo il nome, ma c'è un tipo che chiede le dimissioni dell'onorevole Zappulla. Un certo Armaro mi sembra che stamattina sui giornali chiede l'espulsione dal partito dell'onorevole Zappulla. Armaro, 188 voti, non si viene eletti manco a ferla, chiede l'espulsione dell'onorevole Zappulla, è eletto onorevole per tre volte, media 8.500 voti. A proposito dell'onorevole Zappulla, si sta sottovalutando a Siracusa la situazione? L'onorevole Zappulla sa. L'onorevole Zappulla è sconvolto tanto quanto me, di quello che è accaduto e che accade nel comune di Siracusa. Per cui lui parla con cognizione di causa. L'onorevole Zappulla parla con cognizione di causa. Il silenzio della politica, la vicinanza della gente comune, come sta vivendo queste giornate sicuramente particolari, Simona Princiotta? Bellissimo. Non mi aspettavo la vicinanza della politica. Mi aspettavo quello che sta accadendo. Nessuna sorpresa. Nessuna sorpresa. Ho scritto oggi quello che penso su Facebook. C'è qualche frase, qualche messaggio tra quelli che risultano che l'ha colpita più di altri? Ma sai, scendere dal Consiglio Comunale e avere la vigilessa fra l'altro donna che viene davanti a tutti a stringerti la mano o essere fermata per strada e sentire la gente che si offre come guardia del corpo sintomatico che la gente non è stupida. La gente ha capito. Poi loro possono dire e fare quello che vogliono. La Princiotta non ha mai avuto e continua a non avere interessi sulla cosa pubblica. La Princiotta ha sempre vissuto e continua a vivere di lavoro. e non temo nulla. Loro possono andare a controllare, mi hanno rivoltata come un calzino. Io non temo nulla. Questo quanto a scheletri nell'armadio, ma in generale Simona Princiotta oggi ha paura? Simona Princiotta oggi ha paura e un parolone. Sicuramente l'ansia c'è perché sono umana, ma sono convinta come il primo giorno, due anni fa, di quello che sto facendo.